Dalla grande calamità una valanga di opportunità, titolo del convegno definito shock, tanto che ha deciso di annullarlo. Un titolo assolutamente infelice e soprattutto un titolo che è esattamente opposto a quello del contenuto previsto per i lavori del convegno. I lavori si sarebbero aperti con la presentazione dei risultati di una mappatura delle valanghe che nello scorso inverno hanno interessato il Gran Sasso e i Monti della Laga, proprio per poter fare una sorta di mappatura del rischio e poi sarebbero stati arricchiti da proposte di riforestazione selettiva in grado di contenere gli effetti delle valanghe o comunque di recuperarne, diciamo di ridurne gli effetti. Lo spirito è esattamente opposto, ci sono stati degli equivoci, anche dei mancati controlli sul titolo, per questo ho ritenuto di scusarmi con i parenti delle vittime di Rigopiano e più in generale con gli abruzzesi che hanno ancora una sensibilità molto elevata visti gli accadimenti che ci sono stati nella nostra regione negli ultimi mesi e per questo ho ritenuto di annullare pur sapendo che il contenuto del convegno era esattamente opposto a quello che un titolo decisamente infelice poteva denunciare.